L'attacco come annunciato è avvendola, ma la triplice sindacale ne ha anche per gli assessori della sua giunta, Tommaso Fiore in testa. E non è solo un problema di sanità, le rimostranze dei sindacati sul mancato dialogo con la giunta pugliese riguardano anche ulteriori aspetti della politica regionale, come l'acqua e l'ambiente, avvisaglia di barricate e mobilitazioni che hanno indotto il governatore della Puglia a convocare i segretari confederali regionali per domani alle 15. Nel frattempo CGL, CISL e Will continuano ad invitare Nichi Vendola ad un confronto vero. Bocciano il piano di riordino ospedaliero, mai discusso assieme, che taglia posti letto e ridimensiona ospedali e contestano il modo di procedere sulle internalizzazioni dei lavoratori delle società private che operano per conto delle ASL. Io credo che sia necessario vedere dove il dialogo non va avanti. Il responsabile è Vendola se il dialogo si blocca e i punti focali sono appunto quelli in mano agli assessori tecnici, prevalentemente impegnati più su questioni tecniche e scarsamente attendi a quello che è il dialogo sociale. Rimediare allo strappo si può accogliendo le nostre proposte, dicono i segretari confederali. Fare le scelte in termini di risorse che noi riteniamo si possono recuperare anche tagliando gli sprechi, operando su molte altre leve e puntando sul rafforzamento dei servizi sul territorio, i poliambulatori, le residenze assistite, cioè per fare in modo che i cittadini sul territorio possano trovare motivo per soddisfare le proprie esigenze. Intanto domani Nichi Vendola presenterà il piano per il lavoro da 300 milioni di euro nel pomeriggio, il confronto con i sindacati che però nonostante l'apertura restano freddi. Domani speriamo che si avvii un confronto e una programmazione sui problemi della salute ma non solo della salute perché poi approfitteremo della presenza del Presidente Vendola per fare una elencazione praticamente della mancata concertazione di un confronto serio e costruttivo che non c'è stato nel corso del 2010.